Studio 7, in collaborazione con Sport e Pipiceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuta a una puntata, abbiamo ospite Serina, Ghiomar Serina, e a questo punto noi ti conosciamo artisticamente con i Cavaliere, tutta la tua storia l'abbiamo già vissuta come fan, come ascoltatori, ma a questo punto la domanda più semplice è quella, oggi se dovessi descriverti, come ti descriveresti? Oh, domanda Sibillina, mamma mia, come mi descrivo io? Di solito faccio descrivere gli altri, è un po' come quando si dice, come ti chiami? No, sono gli altri che mi chiamano. E a questo punto parliamo del nuovo CD, è una, veramente, prima cosa, quando nasce l'idea di fare questo CD, e soprattutto perché questi brani? Allora, innanzitutto, questo CD in specifico nasce dall'unione, dalla collaborazione, partendo da Diana, che ci ha messo insieme, mi ha fatto conoscere i Misfits, anche grazie a Retromenio Tanta, che ben conoscete, e quindi io avevo il desiderio di ricantare alcuni brani dei nostri, anche quelli che non cantavo da solista. Però volevo qualcosa di diverso, non rifare nello stesso modo, perché quello c'era già, no? E quindi con un'impronta rock. E chi meglio di loro? No? Dei Misfits. Per cui, nato così, è stato sofferto, perché abbiamo passato praticamente tutto il periodo del lockdown, le distanze, in parte abbiamo registrato, loro hanno registrato qua, io a Milano, e così, e così è nato. Tra questi brani, qual c'è che ti lega un pochettino in più, o lo senti molto più nel cuore, tra questi presenti nel disco? Guarda, difficile dire, perché tutti quelli, cioè, hanno fatto una playlist perfetta, perché sono tutti brani molto conosciuti, e non c'è un odio, mi diverto tantissimo a cantare Devilman, ad esempio, anche se non era, anzi, io non c'ero nemmeno quando è stata registrata la prima volta Devilman, c'era solo Riccardo e il figlio. Comunque, a me piace tantissimo, ma anche Coccinella. Diciamo che quelli che hanno dato più, lo hanno trasformato più in rock, sono quelli che mi piacciono di più. e proprio ascolteremo i Misfits. L'emozione che si dà, continuare a dare tante emozioni a queste persone che ti stanno sotto il palco e vedere queste facce che inizialmente sono silenziosi, ma poi incominciano a cantare, a ridere, anche a emozionarsi, a piangere. Qual è la tua reazione sopra il palco quando riesci a intravedere, perché a volte non è facile vederle? Guarda, cioè da quando ho ripreso a cantare ho scoperto che veramente i nostri brani erano molto amati e che comunque, ma non solo i nostri come Cavalieri del Re, quasi tutti i brani degli anni Ottanta, delle sigle TV anni Ottanta, dei cartoni, sono molto amate e che infatti qualcuno aveva già detto questa cosa, che se tu chiedi a un brano qualsiasi degli anni Ottanta non te la sanno cantare tutta, ma se tu gli chiedi un brano dei cartoni animati anni Ottanta la sanno tutta, la cantano tutti, è incredibile. E scoprire questo è stato veramente una grandissima emozione, è molto bello, è appagante. vedere il pubblico che ancora ci ama così tanto e spero che adesso siano contenti anche di questo perché è stato una cosa per un omaggio ai fan, ma anche all'autore, Riccardo Zara, e anche il bene che voglio a questi ragazzi, anche se può sembrare una, sai, una sviolinata, ma non lo è, ci tenevo che fosse con loro. Io proseguo un po' sul fatto emozionale. Quando scendi al palco che ti incontri i ragazzi di allora, i ragazzi di oggi, che ti chiedono, che ti fanno le domande o si emozionano, vorrebbero farti qualche domanda, ma poi in realtà non riescono a comporre una domanda completa, ma tu gli dai una risposta che in realtà li rendi più felici, nonostante che forse non ti abbiano fatto una stessa domanda. Ti è capitato? Guarda, di solito più che, cioè, chiedono su tutto, no? Si cerca di essere concisi perché dover rispondere a tutte le domande diventa difficile, però loro sono forse più contenti di vedere che si, cioè, quando siamo sul palco, quando si cantano i brani, perché poi la partecipazione loro anche, no? Da sotto, palco, è coinvolgente. A questo punto, prima di fare l'ultima domanda, Serena, prima cosa, vediamo, quando vi è stato proposto l'idea di collaborare e vi hanno detto che il vostro stile piaceva, qual è stata la reazione e soprattutto qual è stata la risposta vostra? Noi abbiamo pensato come poteva non piacere, siamo molto presuntuosi. No, in realtà siamo stati molto contenti quando ci hanno, quando ci ha contattato Diana, ha detto io pensavo a voi, noi siamo stati molto contenti, alcuni di noi sono così giovani da non aver vissuto i Cavaliere del Re quando, che non sono quello di alcuni di noi, da non aver vissuto i Cavaliere del Re quando hanno fatto le prime sigle, però alla fine c'era chi era già anziano quando sono uscite le sigle, quindi siamo comunque tutti molto contenti perché sono comunque sigle che stanno nel cuore di tutti. In questo bene disco qual è che vi rappresenta un po' di più? In realtà noi pur sembra, cioè, pur essendo di fatto molto uniti sul palco e anche fuori siamo tutti e sette molto diversi, quindi io ti posso dire il mio e per me è Mac 5. Mi sento onorata perché è uno dei brani, è uno dei miei, il brano, il mio cavallo di battaglia, ecco. è una domanda che probabilmente ti hanno fatto. Quando ti si accorta che i cartoni animati, le sigle, facevano parte ed entravano a parte prevalentemente nella tua vita che poi continua a regalare e continua a regalare emozioni a tante persone? Ma guarda, fin dall'inizio, cioè, all'inizio no, perché eravamo un gruppo più di studio e però quando abbiamo cominciato a vedere che ci chiamavano anche nelle tv per partecipare a dei programmi anche importanti e poi soprattutto quando è salito in classifica alcuni dei nostri brani è veramente stato emozionante. Però devo dire che l'emozione più forte forse è stata dopo, cioè scoprire che dopo 40 anni ci sono anche bambini giovani che amano questi pezzi e quindi è sempre un'emozione. Oddio, sembravo qualcuno che dice sempre un'emozione. Qualcuno? Dimmi. Mi devi fare una domanda prima di mettermi il microfono? Non devo fare domanda. Tu dice io proseguo questa emozione, proseguo questa sensazione emozionale a questo punto mi vuoi aggiungere? No, vi ho già detto noi siamo stati molto emozionati poi siamo incontrati la prima volta a Retromania 80 del 2019 con lei. In realtà c'eravamo già visti in maniera informale diciamo a Luca 2018 quando abbiamo suonato a Luca Comics e lei era ospite e l'abbiamo incontrata in una cena tutti insieme quindi è stato un inserimento graduale a cui noi ci siamo abituati lei si è abituata a noi poi ogni tanto lei ci ha esatto tipo l'inserimento all'asilo piano piano ogni giorno così è una cosa lei ci ha bastonato quando ci doveva bastonare e ci ha fatto contenti quando dovevamo essere premiati e quindi è andata tutto un rapporto professionale nei canoni negli standard allora l'ultima domanda quando è comparsa la prima volta la vostra sigla in tv chiaramente la media sette è stata la padrona negli anni 80 ha acquisito tanti diritti e soprattutto quindi ha sdoganato un pochino il cartone animato giapponese qual è stata la vostra reazione quando è comparsa la prima volta la vostra le vostre canzoni in tv qual è stata la sensazione e l'emozione e beh fortissima l'emozione però ti devo raccontare una cosa la grande emozione quando noi quattro siamo andati in Brasile in aereo sai che ci sono le playlist di tutti i tipi e c'era quella per i bambini e c'erano tutti i nostri pezzi lì e allora è stata veramente una cosa fantastica vedere in aereo che c'era la playlist per bambini con quasi tutti i nostri brani e quindi poi sì abbiamo partecipato a diverse trasmissioni super classifica show ad esempio che ci avevano chiamato appunto perché la spada di King Arthur aveva acquisito tantissimo successo e devo dire che è veramente un percorso lungo bello bello e Bim Bum Bam avete partecipato perché sì Bim Bum Bam avevamo partecipato nell'82 anche sì noi abbiamo conosciuto il papà di One di Four e di tutti i personaggi e abbiamo conosciuto anche le voci in italiano dei doppiatori allora a questo punto l'unica cosa che ci manca i tuoi saluti è un saluto a tutti i vostri ascoltatori a tutti i nostri fan e godetevi questo cd perché veramente vale la pena rock'n'roar a questo punto ci uniamo con tutti i saluti della band ciao 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 a tutti studio 7 in collaborazione con sport e pipiceno game presenta l'intervista di Pietro ciao